Buonasera, salve, buonasera a tutto il gruppo di 40 sfumature di lotto. Forse qualcuno di voi già mi conosce perché Maurizio durante la settimana già ve ne ha parlato. Io sarei il nuovo collaboratore che affiancherà a Maurizio in tutto e per tutto. Lo aiuterà nel sviluppare le previsioni, a dare le previsioni quando lui è indaffarato perché ultimamente c'è una cosa da fare. È impegnato con il sito, con i nuovi metodi. Poi anche mettiamoci dei buoni risultati che sta ottenendo anche con il Genova Milano di ieri sera e quindi lui sta sempre al lavoro al fine di preparare le previsioni al meglio. E quindi io lo affiancherò, lo aiuterò e gli darò una mano. E nello stesso momento io vi consiglierò alcune chicche da mettere in gioco in quanto sì, io affiancherò Maurizio, comunque io di lotto già ne massico da tanto tempo, da diversi anni. Quindi Maurizio, la previsione che faccio io sarebbe quella di Maurizio perché noi le sviluppiamo insieme. Diciamo lui è la mente, io gli do una mano, come si dice, la limiamo per ottenere una previsione migliore. Comunque con me praticamente farete un gioco di un certo tipo, nel senso che io vi darò delle piccole spiegazioni con i famosi trigoni e anche diciamo rommi, quelle figure geometriche che si vanno a formare durante le estrazioni che Maurizio ultimamente ha spiegato. Io vi spiegherò qualcosa in più, vi darò una previsione e voi casomai ci potete mettere anche qualcosa del vostro e alla fine può darsi pure che questo maledetto terno uscirà in qualche modo. Comunque io adesso al momento vi faccio vedere una previsione che secondo me è forte, è forte, la valuteremo insieme, vi rendo un po' partecipi, io vi dico diciamo come si fa e se poi voi avete qualcosa del vostro ce la potete mettere. Allora andiamo subito al quadro estrazionale di ieri sera, 8 febbraio. Praticamente ieri sera se voi vedete qui il quadro estrazionale, vedete che praticamente tra Bari, Napoli e Firenze si è formato un triangolo. Non proprio perfetto però è sempre un triangolo, perché noi qui andremo a cercare quei numeri che praticamente ci danno una figura geometrica e chiudono o il triangolo o addirittura il rombo. Comunque qui su questa previsione ci sono tre numeri, se la previsione si sviluppa in due numeri, nel senso che il triangolo o il rombo si chiude in due numeri, diciamo è la condizione perfetta perché escono fuori i due numeri, invece così ne escono tre. Però diciamo pazienza, va bene lo stesso. Allora, se voi vedete bene qui, qui noi andiamo a formare praticamente un 70 e un 2, 72, e qui noi andremo a formare un 4 e un 2 che potrebbe essere 42 o 24. Allora, per vedere, diciamo, quale numero è meglio abbinare, io consiglio sempre, come dice anche Maurizio, di andare a vedere il quadro estrazionale delle precedenti estrazioni. E' molto importante perché lì potrete magari capire se c'è una certa affinità coi numeri o un richiamo dei numeri stessi. Infatti, se noi adesso andiamo a vedere il giorno 6, voi noterete subito qui sulla ruota di Firenze, c'è un 2, un 4 e un 70, giusto? Vedete qui come chiude il triangolo? 74 e 42 e anche un 72, quindi tre numeri 74, 42 e 72. Allora, se noi adesso andiamo a vedere qui, qui vediamo un 72, 74 e 42. Quindi sono due estrazioni consecutive che ci dà la stessa previsione, Quindi, un attimino, possiamo dedurre che la previsione sia buona. Però, vi dico sempre, giocate con moderazione, non vi fate prendere dall'entusiasmo, perché queste condizioni pagano, però ci potrebbe essere il caso negativo, il caso che dà l'ambetto e il caso che ci dà l'ambo secco. Quindi andateci con cautela e, diciamo, metteteci anche un po' del vostro. Se voi avete qualche ambata, non so, tipo come su Bari o su Firenze o su Napoli, voi avete un'ambata per conto vostro perché avete un metodino che vi porta un certo numero, abbinatelo, perché non si sa mai, sono numeri, alla fine ci scappa pure magari il terno. Allora, io qui vi ho preparato la previsione. La previsione sarà Bari, Firenze e Napoli, 74-42-14 da giocare per tre colpi, perché, come dice anche Maurizio, questo metodo con i triangoli, con le figure geometriche, questo paga, paga subito, nelle prime tre estrazioni. Quindi, già dalla prossima estrazione, secondo me, può andare bene perché già un colpo è passato. Quindi state molto attenti, però, secondo me, la ruota principale, qui la ruota è di Bari, di Bari-Firenze. Comunque, quando elaborate queste previsioni, munitevi di un righello e di un evidenziatore, così potrete compilare o disegnare la previsione in meglio, così almeno ve la ricordate. Anzi, io veramente consiglierei, anzi una cosa in più che mi è venuta a mente adesso, proprio di scrivere i numeri vicino qui, per esempio, qui scriviamo 74, un attimo che ve lo faccio vedere, 24 e 72. E all'estrazione precedente fate idem, la stessa cosa. Scriverete qui 74, 74, vedete qui come richiamo lo stesso numero? 74, 74, e poi qui vediamo che abbiamo un bel 24, 24. E niente, proviamo, proviamo a giocare questa previsione per tre istrezioni, speriamo che il mio ingresso nella MI Digital Marketer porti fortuna anche a voi, e niente, cosa posso dirvi? Buone vincite e ci vediamo alla prossima. Ok, ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti.